Le sentenze si applicano, la legalità prima di tutto. Lanciato da Epifani poco dopo la conferma della condanna, confermato da Napolitano nella sua noto ufficiale e poi ribadito da vari deputati PD, il concetto sembrerebbe proprio diventato per il partito retto da Epifani quello che il bosone di X dicono sia per la materia, ovvero il collante che tutto tiene, anche quello che di solito tanto avvicinabile non è. In un partito la cui compattezza non è da tempo, si sa, a prova di bomba. Capita così di questi tempi che il capogruppo alla Camera, Speranza, fermamente posizionato sull'asse della segreteria, possa dire cose quasi uguali a quelle di una Rosi Bindi, una che per il governo Letta, al contrario, non si è mai stracciata le vesti. Quasi uguali, perché lei, intervistata dalla stampa, per la verità, dice qualcosa in più del suo collega. Lui, la questione dell'incandidabilità di Berlusconi e del voto in giunta prossimo venturo sulla sua decadenza, la lascia sul tappeto, limitandosi a dire che non è il tempo degli escamotage e che il partito si comporterà con Berlusconi come avrebbe fatto con qualunque altro parlamentare. Mentre la Bindi va decisamente più in là, arrivando a far capire chiaramente che il suo partito, chiamato a votare sulla decadenza di Berlusconi, non avrebbe altra scelta che votare sì, altrimenti, aggiunge, il partito non ci sarebbe più. E allora, ecco il bosone di Higgs, il collante di qui sopra, diventare anche meno collante e trasformarsi in una vetrina, buona per l'esterno, ma nel cui retro bottega le idee continuano ad essere lontane. Tanto più che speranza, ribadisce ancora una volta, che i due terreni, quello del governo e quello della legalità, devono restare distinti. Cosa possibile, del resto, almeno fino a quando, non si arriverà alla scadenza del voto in giunta. Scadenza che, nonostante le dichiarazioni del presidente Stefano, metà di settembre, sembra già destinata a saldittare in avanti, con un rinvio al quale lo stesso PD, almeno la sua anima più filogovernativa, potrebbe guardare di buon occhio. Perché in quel caso ci sarebbero solo o sì o no. Tanto più che a novembre dovremmo essere, dovremmo, in zona congresso, quando sarà al punto di massima ebollizione, la guerra che continua ad occupare molto spazio. Quella per la segreteria, una guerra da cui ogni giorno si sente qualche sparo. Anche oggi, in contemporanea Cuperlo, candidato alla segreteria, il quale avverte Renzi sappia che la segreteria sarebbe a tempo pieno, c'è un gentiloni che dice il paradosso del PD è avere un fuoriclasse come Renzi e tenerlo in panchina.